Qualcuno l'ha definita una sentenza storica, sicuramente quella inflitta a Francesco Elluna Bonanata, Giuseppe Di Paroto e Nicolas Fusaro è una pena esemplare. Un anno e quattro mesi di reclusione per aver seviziato, impiccato e finito abbastonato un cane ribattezzato Angelo dalle associazioni animaliste nelle campagne di San Ginetto. Stabilito un principio cardine nell'amministrazione della giustizia, la crudeltà sugli animali si paga e si paga con il carcere. Gli imputati non erano presenti alla lettura del dispositivo, sicuramente mai avrebbero pensato che la loro assurda trovata criminale consumata nel giugno del 2016 gli sarebbe costata così cara. Da anni per migliaia di euro è una vita segnata dall'effetto mediatico scaturito dalla sequenza shock da loro stessi diffusa sui social. Il maldestro tentativo di guadagnarsi una ribalta gli si è ritorto contro, suscitando dapprima l'indignazione dell'opinione pubblica e poi la reazione della società civile, dell'associazionismo, delle istituzioni. Il comune di San Ginetto si è costituito parte civile per tutelare la propria immagine, ma nessuno dimentica il cordone di sicurezza creato dagli abitanti del paese a protezione dei quattro ragazzi, quando le telecamere di Nina Palmieri e delle Iene hanno tentato di introdursi nel centro dell'alto tirreno cosentino. I quattro imputati non trascorreranno neanche un giorno dietro le sbarre. Il giudice ha subordinato la reclusione ad un periodo di almeno sei mesi da trascorrere in qualità di volontari nello svolgimento di servizi di pubblica utilità per la cura degli animali, nella convinzione che la dura lezione li condurrà verso una redenzione completa. Salvatore Bruno per la CNews24.